Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su GTA Online e siamo con un po' di gente ovvero Shark, Pippi Calze e poi ci sono io e Vincenzo oggi per cominciare col video testeremo la resistenza di questo cavolo hai fatto? vabbè stavo dicendo di questo nuovo laboratorio ah però guardate come funziona questa roba qui per onare i veicoli guardate vediamo abbiamo visto ok ecco allora aspetta un attimo lo tiriamo fuori da lì dopo che testiamo quanto resiste si si vai sposta pure tanto resta pure all'interno così vediamo se davvero resiste così tanto aspetta che devo andare e dai e vuole che è resistente vabbè tanto ma tol troppo l'izio mi ragazzi resiste a un botto di missi vai l'ho truccato e si vedo ragazzi è indistattibile vabbè comunque non muori oh se è distrutto finalmente ragazzi avete visto quanto c'è voluto per distruggere mamma mia è distrutto comunque oggi siamo qui in questo video per provare gli incarichi di Dax che in pratica per avviarli dovrete chiamare Dax sul telefono e devo ancora far pulizia qua però vabbè qualche veicolo? ti chiedi la consegna del veicolo di Dax? no vabbè chiediamo al veicolo giusto per capire che veicolo c'è dal camper il giorno è sì appunto è prevedibile il camper è quello da nuovo? sì sì comunque se lo modifichi bene sì se lo modifichi bene magari fa meno schifo però velocità veramente ok ho richiesto un incarico vediamo un attimo cosa ci fa fare ora ah ok recupera le scorte rubate a Stub City sempre ma dai vabbè chiamo l'assistente mi prendo l'oppresso comunque intanto raga ringrazio gli abbonati del mese ovvero greater CGP viola se sola e ebyte grazie a tutti per esservi abbonati e se volete abbonatevi anche voi per ottenere vantaggi esclusivi come video riservati agli abbonati eccoci qua arrivati mi so li hai? 7 miliardi e mezzo tipo eh perci che la fai fidaci beh sì penso di sì pensavo di averlo già preso modificato invece mi sta oh attenzione qua che è pieno di gente sono esplosano prova ed elimina il boss rivale sì vabbè ma io stavo sparando col tizio e mi ha maldistrutto il furgone ma davvero dov'è sto boss rivale? io non dubbio che lo so scusate è destino devo andare a giocare stamattina è destino non appena le cose mie ok ragazzi ho ucciso il boss rivale ora gli faccio la foto ci sentiamo dopo ragazzi ci sentiamo dopo ciao shark ok inviamo la foto a Dax vedete non sono così complicati almeno se è solo questo oppure è bella bingo quel messaggio lo si capisce va bene oh guarda io vado qui va bene eh ma questi qui comunque hanno delle armi che in un attimo ti fanno ci fanno andiamo a prendere le scorte ecco perfetto aspetta salgo prendo il il buzzard così almeno oh ma ancora sto coso modificato? mi sei partito in fretta devo dire beh sì dai per essere un veicolo di quel tipo non è regno però non me lo ricordavo così precisi i missi del buzzard ah ecco infatti grazie per avermi rinfrescato la memoria gioco no se non me la gangevo lo prendevo cavolo c'è un problema che succede? oddio no aspetta magari non ti attacca ecco no io giravo dovevo girare anche la visuale oddio dopo mezz'ora sono riuscito a prendere una moto serano che non è venuto un rango che è 271 vabbè perché c'è un rango 7981 esatto sicuramente è molto veritiero il mio rango vabbè comunque è tutto legit sì 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 assolutamente no mi si è rotto il buzzard vabbè dai se mi danno i soldi di natale prendo comunque allora direi che ci sei quasi al punto ah ok perfetto e devi abbandonare l'aria beh anche perché in Italia ha quasi nessuno l'xbox di youtuber intendo quanti soldi hai fatto? 100.000 è possibile e quanto hai fatto? io 0 0 ah perché siamo 0 forse vabbè aspetta prova a mettere sai cosa l'MC e vedo se con l'MC ti fa guadagnare un po' di soldi aspetta beh direi che a sto punto possiamo avviare un altro incarico di Dax ah si può fare un incarico ogni 46 minuti ah brutta sta cosa sì diciamo che non facciamo un altro ora che bella moto comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate like se vi è piaciuto iscrivetevi attivate le notifiche su tutte per vedere altri contenuti riguardo a questo aggiornamento detto ciò ci vediamo al prossimo video ciao